Siamo a Largo Baiocchi, a Pescara Porta Nuova, una zona dove i residenti sono in allarme, consigliere Pignoli, perché soprattutto nel pomeriggio si radunano tanti giovani, schiamazzi e la gente del quartiere è piuttosto preoccupata. Ci sono stati anche dei danneggiamenti, anche ad una telecamera qui alle nostre spalle. Non per caso io e il consigliere Berlio Fiorilli stamattina siamo qui perché abbiamo raccolto le testimonianze, soprattutto il grido d'allarme, di quelle persone che vivono qua, che sono esasperate, perché dalle ore 16 in poi qui c'è un assembramento, e parliamo di assembramento in questo momento storico, dove invece non ci dovrebbero essere di persone, ma anche atti vandalici, come vedete è stata lotta una telecamera da ragazzi, quindi ci dovevano essere anche dei rappresentanti della zona, ma ovviamente per timore di ulteriori percussioni li rappresentiamo noi questa mattina in questa conferenza stampa. Quindi che cosa faremo? Da subito scriveremo al prefetto al questore perché ovviamente questa zona deve essere attenzionata come lo è attenzionato il ferro di cavallo, il rangitello e il violaco di Borgiano. Come vedete l'ordine pubblico a Pescara non è soltanto concentrato in quella zona ma si espande su tutto il territorio comunale. Noi dobbiamo essere vigili affinché ovviamente le persone per bene vivano serenamente la loro vita. Ho interessato ovviamente l'ingegner del bianco di Attiva che sicuramente arriverà tra poco per sistemare la cosa perché oltre ovviamente all'aspetto, come dicevo prima, dell'ordine pubblico c'è anche una trascuratezza che non è da sottovalutare. Questa era una zona di Pescara che era stata riqualificata dalla precedente amministrazione? Sì, una bella piazza riqualificata dalla giunta al Boremascia, ricordo ancora l'inaugurazione pochi anni fa in fondo, che ha restituito ai residenti di questo quartiere uno spazio di aggregazione. Purtroppo poi se non c'è l'attenzione alle cose pubbliche da parte di tutti accadono cose spiacevoli come questa. Sicuramente qui la responsabilità non è dei residenti che sono anzi molto responsabili, hanno apprezzato l'opera e la vorrebbero godere appieno. La responsabilità è di quei pochi stolti che magari vengono anche da fuori a rovinare la serenità dei residenti, a rovinare le opere pubbliche e a fare danni veri e propri. Chiederemo l'intervento più forte delle forze dell'ordine perché questo quartiere ha bisogno di riqualificazione non soltanto urbana ma anche sociale e quindi è importante il controllo. Saremo vigili perché è un'attenzione che dobbiamo ai nostri cittadini e ai nostri residenti.